ciao ragazzi oggi vi voglio leggere questo libro su klint che è un pittore che a me piace molto il libro si chiama vi presento klint gustav klint nacque in austria nel 1862 se vuoi scoprire chi era devi seguire il suo primo gatto un gatto un po magico perché parla sa leggere nei pensieri e vive molto più a lungo dei gatti normali vieni entra sentirai odore di pittura di olio di tela scopri quello che c'è nello studio di gustav klint guardi i pennelli che tiene raccolti in un vaso e i colori sparsi sul tavolo puoi rimanere qui a osservarlo per ore se vuoi ma lui non ti vede puoi miagolare forte o piano e lui non ti sente è sempre così quando si siede al cavalletto esistono solo i colori e la tela per ore per giorni ora sta dipingendo due innamorati li dipinge con così tanta cura che sembrano veri intorno poi ci metterà dell'oro per decolare il loro amore e sull'oro le rose come le rose del suo giardino quelle che vede dalla finestra e che innaffia ogni mattina gustav cura le rose la mattina presto nel giardino silenzioso a quest'ora ci sono solo io il suo primo gatto per tenergli compagnia ora forse è lui che tiene compagnia a me raccoglie i petali secchi assortano i suoi pensieri credo che pensi alla sua famiglia a suo padre che faceva l'orafo a sua madre che avrebbe voluto cantare d'opera alle quattro sorelle clara ermina anna e gianne al fratello george e di sicuro pensa a ernest il suo fratello preferito con lui gustav ha condiviso tutto i giochi quando erano bambini poi la scuola d'arte per imparare a disegnare e il lavoro insieme hanno fatto alcuni dipinti per il teatro più importante di vienna la loro città più tardi lo studio si anima arrivano le modelle gustav spiega loro in che posa devono mettersi e loro stanno lì immobili a volte rimangono vestite a volte si spogliano e posano con il corpo nudo lui fa tantissimi schizzi su piccoli fogli che lascia cadere per terra un po ovunque per imparare a dipingere le persone ci vuole molto esercizio bisogna osservare bene le parti del corpo e disegnarle in modo che sembrano naturali noi gatti intanto calpestiamo i fogli sparse ci rotoliamo sopra gustav ci guarda e ride la vostra pipì è il miglior fissativo dice la nostra pipì serve perché così i tratti del disegno rimangono sul foglio e non si cancellano più forse non è proprio vero ma certo lui ci fa sentire liberi disegnare le modelle non basta si deve anche conoscere quello che fanno gli altri artisti bisogna vedere tutto dice gustav anche le opere che non sono belle per imparare a fare meglio lui va spesso nei musei a studiare l'arte antica osserve i rilievi che vengono dalla siria i vasi greci le opere degli egizi e dei cinesi gira per le sale con un piccolo quaderno rosso in mano che gli serve per copiare o annotare qualche idea poi si ricorderà dei motivi che ha studiato li inserirà nei suoi quadri intorno ai personaggi ridisegnandoli in modo nuovo non tutti però amano le opere nuove ci sono persone che vorrebbero vedere sempre le stesse cose che cos'è quel tetto un cavolo dorato testa di cavolo sarà lei il soffio arrabbiato per me è una cupola bellissima sono venuto fino a qui per vedere il nuovo palazzo che gustava fatto costruire insieme ad altri pittori scultori architetti suoi amici loro non sopportano di seguire le regole dell'arte tradizionale vogliono essere liberi di creare solo quello che sentono senza costrezioni per questo si sono riuniti in un gruppo che chiamano secessione dentro al palazzo espongono le loro opere ma non solo invitano anche famosi artisti stranieri perché credono che sia importante aprirsi agli altri paesi e accogliere idee nuove il signore con la testa di cavolo non è l'unico scontento della nuova arte gustav crea grande scompiglio anche nell'università di Vienna quando dipinge tre grandi quadri da mettere da mettere nell'aula più importante gli hanno chiesto di raffigurare la filosofia la medicina il diritto tutte materie che vengono insegnate lì ma vedendo il risultato i professori sono davvero arrabbiati loro volevano personaggi sereni e rassicuranti mentre lui dipinge gli uomini con i loro sentimenti dipinge la vita e la morte la paura l'amore il dolore speravano di vedere tutti i vestiti e composti mentre lui crea spazi in cui vagano corpi nudi come in un sogno le critiche sono così aspre che gustav decide di riprendersi i quadri preferisce ricomprarli visto che non avvengono apprezzati quello che conta per me non è a quanti piace la mia arte ma a chi dice strizzandomi l'occhio vuole sapere se piace anche a me forse a me più che altro piace seguirlo e scoprire cose nuove oggi si parte andiamo in italia a venezia io cerco i gatti per le strade li voglio conoscere ma lui no solo arte 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 quando poi arriviamo a ravenna sospira finalmente io mi chiedo perché ma appena entriamo in una chiesa capisco c'è un mosaico composto da infinite tesserine coperte d'oro e di colori brillanti incastrate nel muro perfino io mi fermo incantato eppure di arte non capisco un granché gustav rimane immobile per ore a contemplarlo forse pensa già a come trarne l'ispirazione torniamo presto a casa perché a gustav manca troppo la sua vienna non è fatto per viaggiare lui entra nel suo studio e lavora tutto il giorno quello è il suo viaggio migliore ora sta facendo un retratto a emily ogni tanto per distrarsi escono insieme in giardino e mi accarezzano non solo me ormai siamo otto gatti a stare qui poi gustav prende le clave e fa il giocogliere però non è tanto bravo e noi ridiamo sotto i baffi e quando fa il lancio del disco ci nascondiamo non si sa mai come ogni sera quando ha finito il lavoro esce dallo studio e ci saluta credo che incontrerà i suoi amici come al solito poi tornerà a casa dove vive con la madre e le sorelle noi lo rivedremo domani mattina dicevo di emily emily è la sua compagna a una delle sartorie più famose di vienna insieme alle sorelle helen e pauline la boutique sorelle floje in genere ricevono i vestiti che si usano a parigi a londra e li ricopiano ma emily inventa anche i propri modelli e anche gustav ne crea alcuni sono abiti molto diversi da quelle che vanno di moda ampi comodi senza corsetto permettono alle donne di muoversi con agilità in modo da non essere strette e soffrire per sé invece gustav disegna le tuniche da lavoro quelle che indossa ogni giorno quando dipinge con la famiglia di emily partiamo per le vacanze estive come ogni anno si va sulla riva di un lago di montagna l'art se è abitudinario gustav e questo è uno dei suoi luoghi preferiti anche qui lavora non può farne a meno la mattina carica sulla barca la tela il cavalletto e i colori poi si fa segno di salire andiamo a dipingere in mezzo al lago dove lui studia l'acqua e i suoi riflessi per decidere la migliore inquadratura tiene sempre in tasca una piccola cornice d'avorio attraverso la quale guarda il paesaggio prima di mettersi all'opera qui in vacanza gustav si immerge nella natura e dipinge solo paesaggi niente figure umane niente quadri di invenzione quando torna a vienna ricomincia a lavorare nel suo studio e a inventare nuove composizioni a volte si sente un po come un cavaliere armato pronto a guidare gli altri uomini verso la felicità ora immagina di lottare contro la malattia l'invidia la follia e di sconviggere questi mostri grazie alla pittura c'è anche chi combatte contro con la poesia o la musica gustav raffigura le sue idee in una stanza dentro al palazzo della secessione dipinge sulle pareti un lungo fregio in occasione di una mostra dedicata al grande musicista beethoven dopo aver dipinto questo fregio lunghissimo gustav ricomincia a lavorare nel suo studio ritrae le signore dell'alta società di vienna inventando vestiti stravaganti e dorati come quello di adele block bauer quando loro posano mi avvicino in cerca di carezze profumate gustav raffigura soprattutto donne immagina donne giovani e vecchie con o senza vestiti ora vuole rappresentare le tre età della vita una bambina una mamma e una nonna quanti schizzi dovrà fare le modelle per riuscire a dipingere figure che sembrino vere tra le età della vita però non ha rappresentato il momento in cui ci si innamora come ha potuto dimenticarselo vorrei dirglielo ma poi vedo che sta cominciando un nuovo quadro proprio il bacio di due innamorati anche molti anni fa dipinse due innamorati ora però usa dappertutto l'oro e le decorazioni geometriche i vestiti hanno motivi diversi tutti tondi quelli della donna e tutti spigolosi quelli dell'uomo i loro abiti si distinguono ma loro sono stretti in un abbraccio quasi fusi insieme mentre guardo penso alle ore che abbiamo passato a ravenna davanti ai mosaici è riuscito a trarre respirazione da quelle infinite tesserine dorate gustav è perso nei suoi pensieri sull'amore quando sente la voce di un mendicante da sempre denaro a chi chiede l'elemosina niente come dicevo all'inizio lascia fuori dallo studio una ciotola piena di monete per i poveri lui non è solo speciale come pittore e come padrone di gatti è anche molto generoso e i colori li compra sempre nella stessa cartoleria sapendo che stava per fallire ha deciso di aiutare la proprietaria e di rifornirsi da lei sembra strano ma più mette oro nei suoi quadri meno ne tiene da parte per sé spende subito i soldi che guadagna senza risparmiare niente infatti dice che non serve avere tanti salvadanai ripete spesso è una cosa meschina accumulare denaro gustav è generoso dicevo è pieno di vita lo sento spesso parlare forte e ridere ora però è scoraggiato per questo tace i giovani artisti suoi allievi non seguono più la sua arte non mi capiscono più dice non so neppure se pensano ancora a me però sa bene che è normale succede sempre così un tempo è stato lui a proporre un nuovo stile ora sono i più giovani a farlo lui invece mi sorprende anche questa volta riprende coraggio e cambia modo di dipingere per questo neonato nella culla sceglie tanti colori e fai contorni dolci senza spigoli non c'è più traccia di oro né di decorazioni geometriche anche ora io rimango a guardarlo mentre lavora e annuso come sempre l'odore di olio di pittura di tela un giorno mi ha confidato né la parola detta né la parola scritta mi sono familiari neppure per esprimermi sul mio lavoro e me stesso è stato quello il giorno in cui ho deciso di seguirlo sempre e raccontare io che sono il suo gatto più antico ma certo meglio di me parleranno di gustav i suoi dipinti ne hanno contati 200 i suoi disegni anche quelli su cui mi sono rotolato che rimarranno per chi li saprà guardare gustav klimt morì nel 1918 alcuni dei suoi quadri sono riprodotti in queste ultime pagine magari chissà un giorno ti verrà voglia di vedere i dipinti veri a roma o a venezia in austria in germania in america in belgio o in svizzera dove sono conservati giuditta la culla amore adele blochbauer emilie floje klimt stesso e il suo primo gatto il cavaliere il fregio di beethoven le tre età della vita la musica studio per la medicina e il bacio